Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti nella reaction di Milan Sassuolo che a breve inizierà su Twitch Mi raccomando, link in descrizione per il nostro canale Twitch, vi aspetto in tantissimi, passate e iscrivetevi al canale Inoltre vi ricordo qua su Youtube, se il video vi dovesse piacere, di lasciare un bel like e di iscrivervi anche a questo canale Formazioni Formazione del Milan Donnarumma, Calabria, Kier, Tomori, Dalot, Meite, Kessi, Saleemakers, Cialanoglu, Rebic, Leao Ok, Cialanoglu parte dal primo minuto, bene Formazione Sassuolo, consigli Chiriacopulos, Ferrari, Marlon, Muldur, Locatelli, Obiang, Bogà, Djuricic, Berardi, De Frel E ragazzi si inizia, buon Milan Sassuolo Kier, attenzione, Bogà, palle in aria, colpo di tacco, Bogà, 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 provo il tiro, Gigio para Mamma mia, calcio d'angolo Calcio d'angolo Sassuolo, mamma mia, occasionissima Sassuolo Palla dentro Bogà la gioca di Uricic che di tacco gliela dà subito Finta di tiro di Bogà Che manda fuori tempo Tomori Dopo calcio indisturbato verso Gigio E Gigio fortunatamente la para Calabria, prova la rimessa lunga per Saleemakers Lo trova, attenzione, Saleemakers sulla fascia Saleemakers, s'accentra Cambia gioco per Ciala, Ciala in aria Attenzione, Ciala Noglu, Ciala, prova il tiro a giro Il turco Akan Mamma mia ragazzi, che gol di Akan Eccolo qui Girello sul secondo palo sotto l'incrocio Bel gol ragazzi E ci voleva, e ci voleva Stavamo giocando bene, ce lo meritavamo sto gol Bella azione tra l'altro Bella, bella azione Attenzione, Diuricic Corridoio centrale per lui La gioca in aria Berardi, Berardi Il tiro Dalot Intervento prodigioso Che mette in calcio d'angolo Super Dalot Super chiusura Palla che arrivava di prima Belotti Belotti? Ho detto Belotti Vieni prima No, Berardi Berardi a tu per tu Con Gigio Stava calciando col Mancino Palla che era indirizzata verso la porta E Dalot Con un grande intervento in scivolata La mette in calcio d'angolo E infatti Finisce qua al primo tempo Milan 1 Sassuolo 0 Gol al trentesimo Di Akan Cialanoglu E speriamo che Vada a finire bene la partita ragazzi Mentalità molto buona Da parte dei ragazzi Bel gioco Azioni create Ne hanno creato Ne hanno creato due pericolose loro Del Sassuolo Però noi Alla prima vera occasione Ci siamo fatti trovare pronti Quindi Molto bene Molto bene E si ricomincia col secondo tempo Di Milan Sassuolo Ricordo 1-0 Gol di Cialanoglu Al trentesimo minuto Subito in avanti Il Milan Attenzione Leao in fascia La gioca Sale Makers Bella palla Sale Makers Ha provato a fare un filtrante Che non è passato No Perché spazzarla così Vabbè Mai te Riparte Berardi In fascia Attenzione Berardi Berardi Palla dentro Tiro Mamma mia Rischio 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 Traore Prova a calciare sul primo palo Palla che va sul fondo Ma Azione pericolosa Più che altro perché Berardi In buca in aria Traore Traore Che era completamente da solo L'hanno coperto dopo E per fortuna che non l'ha presa benissimo Traore Palla però che rimane lì Chiriacopoulos Finta di cross La gioca fuori dall'area Maxi Lopez Palla per Ferrari Ferrari Palla per Chiriacopoulos Ancora Ferrari Tanto giro palla per questo Sassuolo Che vuol far smuovere il Milan Bello intervento di Chessi Ancora palla Palla che rimane lì però Aia brutta Aia Aia Mi fa male Mi fa male Toglian Toglian in aria Toglian Prova il tiro Palla che rimane lì E il Sassuolo Trova l'uno a uno Che culo di merda Che culo di merda Raspadori Che culo di merda Incredibile comunque il culo Che ha questa squadra qua Un gol Una beffa Una beffa questo gol qua Veramente una beffa Partita che avevamo Comunque sotto controllo Un tiro Un altro tiro Marcio Di Toglian Che è andata a finire in mezzo Alla difesa milanista Palla che rimane lì E Raspadori Tapin vincente Ma Guarda Guarda Palla per Toglian Neanche lui sa cosa fa Rientra Un tiro di merda Raspadori Cioè ragazzi Vabbè Uno a uno Raspadori Eh adesso si fa dura Attenzione Berardi Palla in fascia Va sul fondo Berardi Palla dentro Raspadori 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 Il tiro Raspadori Gol Due a uno Incredibile 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 Palla in fascia Per Berardi Berardi La gioca Raspadori 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 con un stop C'entra C'è va sull'esterno Tiro Diagonale Palo Gol Due a uno Sassuolo Araslan Araslan Sul fondo Araslan Il tiro Donnarumma Quasi autogol Di Tomori No ragazzi Dai Vabbè Vabbè Dai 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 Finisca in fretta Sta schifo Bello Ottavio Ciao Ciao Jack Vabbè Ragazzi Dai C'è C'è da dire Una partita Che sull'uno A zero Eravamo in Completo Controllo Araslan Fuori dall'aria Araslan La gioca Chiracopulos Il tiro Sul fondo Guarda 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 Come si Incazzano Hanno Cerchiato L'arbitro E a questi Non gli Fanno Un cazzo Ah Punizione Dentro L'area Punizione Dentro L'area Per il Milan Di seconda Punizione Dentro L'area Per il Milan Punizione Di seconda L'ottantottesimo Vediamo Eh sì Caro mio Eh sì Caro mio Cazzo È vero Praticamente Ferrari Era un passaggio Palese Quello A consigli Consigli È andato Poi A pararla Con le mani Adesso Ragazzi La punizione Di seconda È al limite Dell'area Piccola Sarebbe Da scaricare Dietro Tirare Una fiocinata In porta Occasionissima Milan L'ottantottesimo Giocata Il tiro Palla Che rimane Lì Niente Da fare Fuori Calcio D'angolo Mila Niente Grazie A skyper Le inquadrature Niente Calcio D'angolo Milan Ottantanovesimo Un minuto Alla fine Più recupero Brahim Diaz Palla Dentro Esce Consigli Niente Da fare 10 secondi 10 secondi Al termine Casti Ultima Azione Casti La devi buttare In avanti Casti La devi buttare In avanti Quella Figa Di palla Dalot Palla lunga Attenzione Brahim Diaz Ferrari Anticipa Palla per Leao Leao in aria Niente da fare La partita Finisce qua Milan 1 Sassuolo 2 Una partita Che pesa Una partita Che pesa Che peserà Per il fattore Champions League È incredibile Incredibile